amici di news formula 1 buongiorno buonasera a seconda di quando ci state ascoltando e benvenuti ad una nuova puntata di formula 1 race tech la rubrica di news formula 1 che si occupa di seguire le novità tecniche a monte o a valle dei gran premi e in questo caso di domita tecniche cominciamo ad averne perché finalmente siamo stiamo registrando dopo la conclusione dei test dei famigerati tre giorni di test in bahrain ovviamente a commentare le novità tecniche c'è l'ingegnere riccardo romanelli buonasera riccardo ciao michele buonasera a tutti riccardo romanelli come sapete è ingegnere in forza world phrasing cars e coautore del libro endonance web dalle gruppo c ai prototipi ibridi ora partiamo subito come sempre con diciamo uno dei piatti forti di quelli questi che ci ha lasciato in dote questi tre giorni di test che hanno diciamo creato molte aspettative e regalato molte notizie e partirei con la coppia mercedes e red bull perché sono le due squadre che a mio giudizio e sentirò appunto cosa ne pensi anche tu sono quelle che si sono nascoste un pochettino di più e che hanno presentato di converso anche le novità tecniche un pochino più importanti partirei col chiederti un'opinione in particolare su mercedes abbiamo visto questo anteriore di cui abbiamo già parlato in puntate precedenti ma ora ci hanno sorpresi anche con una sospensione quantomeno non dico avveniristica ma diciamo modulare diciamo trasformabile in qualche modo parlaci un po di quello che stanno cercando di fare e magari come cercano di farlo con questa nuova soluzione questo è stato una bellissima sorpresa perché normalmente nelle vetture dato che il dato che gli art poi diciamo gli attacchi sulla scocca dei bracci sospensioni quindi di univo sono gestiti con degli opportuni inserti che sono laminati all'interno della struttura quindi abbiamo sempre visto che le geometrie in qualche modo sono frutto di un compromesso come come abbiamo detto più volte un compromesso per quello che riguarda la cinematica della sospensione e lo sfruttamento delle dei bracci e quindi delle loro posizioni relativamente al flusso che va a lasciare dall'anteriore va verso la parte posteriore in questo caso invece mercedes ha un po ribattato il paradigma nel senso si è presa al lusso di a spese di un maggiore peso sicuramente locale ed eventualmente anche con dei parametri di rigidezza che potrebbero forse essere nella zona di attacco leggermente più bassi di quelli che potresti ottenere una soluzione diciamo unica comunque hanno deciso di mantenersi aperta questa strada per poter variare molto la quota verticale dell'attacco posteriore del braccio superiore della sospensione per poter far sì di avere un centro di istantanea rotazione dei due bracci che va poi a impattare su quello che è diciamo l'effetto di anti dai quindi di anti affondamento della della parte anteriore della vettura per via appunto cinematica che si fa con la sospensione e questo è una cosa molto interessante perché vuol dire che hanno ritenuto che non fosse così ovvio tra virgolette trovare un compromesso ottimale e si sono quindi tenuti aperti alla porta secondo me per almeno due livelli di configurazione di questo parametro per le piste probabilmente medio lente o comunque molto guidate le piste caratterizzate da velocità di percorrenza molto più alte dove conta tanto l'efficienza dove si va probabilmente anche più bassi con il fondo vettura e dove la stabilizzazione della piattaforma no del fondo vettura rispetto al suolo diventa ancora più importante quindi comunque molto originale questa questa scelta ed è una cosa che onestamente non si vedeva io personalmente non negli ultimi 15 anni non mi ricordo nulla di simile probabilmente in passato si facevano cose di questo tipo però come dire la parte strutturale della scocca era ben diversa non era come ora no e quindi un plauso a questa aver lasciato aperta questa possibilità a spese appunto di dei canonici rapporti peso minimo rapporto rigidezza peso via così su mercedes grazie mille per l'idea ma su mercedes ti chiedo due parole veramente di numero perché ci torneremo anche dopo credi che si siano nascosti durante questi test ma guarda io ho la sensazione guardando i tempi e potrebbe potrebbe anche darsi ed è tutto sommato un po nello stile che ha sempre avuto mercedes negli anni magari il nascondersi può voler dire ad esempio aver utilizzato delle mappe lato power unit più da gara se vogliamo comunque più conservative non abbiamo effettivamente però visto una grande grande mole di lavoro una grande quantità di giri fatta con le giuste mescole pensando di fare il tempo questo è sicuro lo stesso discorso però si può dire anche di red bull perché anche red bull non è che abbia in qualche modo in una maniera così puntuale assolutamente sì e infatti veniamo con nello stesso segmento anche i campioni del mondo perché sono quelli che hanno impressionato tecnicamente se parliamo della dell'anteriore di mercedes dobbiamo parlare anche dell'anteriore e della parte diciamo del cofano motore di red bull che tanto ha impressionato in questi ultimi giorni abbiamo un paio di foto interessanti che riguardano queste due soluzioni la prima soprattutto anche questa è la potenza frontale ma abbiamo anche una laterale che ben sta a identificare quello che red bull ha cercato di fare con il proprio elettore anteriore e poi vorrei anche un tuo commento ecco questa è la prima e poi dopo vorrò anche un tuo commento su quello che potrebbe essere la soluzione di red bull dal potenza del cofano motore poi partiamo lasciate la parola su questa parte questa questa fotografia è molto interessante quando l'ho vista la prima volta la prima cosa che mi ha colpito è se guardiamo la porzione in a destra e in alto diciamo di questa foto in particolare dove vediamo lo sponsor byb no vedete che ci sono queste due due scie queste due striature del flow viz che sono diciamo molto dirette in alto in particolare la prima va sulla prima b e la seconda appena più in basso va quasi alla base della b e queste sono la traccia sul fianco della scocca della scia quindi del flusso locale che lascia il bordo d'uscita del triangolo superiore della sospensione e questo ci dà una misura evidente di quanto importante sia l'app wash quindi la distorsione del flusso verso l'alto che l'ala anteriore crea e quindi diciamo la deportanza creata dall'ala anteriore si ottiene appunto dire come conseguenza del direzionale il flusso verso l'alto e se andiamo a vedere appunto la posizione del fence esterno quindi di imbocco dei tunnel e immaginiamo dov'è l'asse ruota ci rendiamo conto che anche a una quota longitudinale ben arretrata rispetto al bordo d'uscita dell'alto anteriore dell'ultimo flap dell'alto anteriore comunque il direzionamento del flusso locale è ancora ben in alto insomma con questa immagine fra l'altro mi viene da chiederti due cose la prima è che con questa situazione di scie stanno cercando secondo te di alimentare la presa d'aria oppure hanno un'altra idea e poi ci ricolleghiamo a questo anche su un altro argomento di cui si è fatto un gran parlare relativamente a Red Bull ovvero tanti diciamo tanti cambiamenti nella fluidodinamica interna quanto pare New Way si è fissato con l'idea di avere meno superficie radianti possibili intendo radiatori e ci sta riuscendo in qualche modo cosa ne pensi ma allora diciamo che nelle altre foto che abbiamo visto di Red Bull abbiamo visto che c'è appunto una una presa orizzontale quindi una feritoia orizzontale che va a alimentare il tunnel di radiatori ce n'è una verticale ai lati della scocca che in una primissima analisi poteva sembrare un riprendere il concetto dell'ex DAC Ferrari secondo me tornando sull'immagine di prima io invece penso che probabilmente tutta questa estremizzazione nel contenere in senso verticale la sezione di ingresso del tunnel delle prese d'aria tunnel radiatore forse proprio per creare questo canale si vede molto bene come è ben pulito ben avviato non ci sono discontinuità di nessun tipo diciamo il canale che c'è tra il sottopancia e il sopra fondo quindi quindi la parte superiore del marciapiede non dimentichiamoci che Red Bull era quella che già l'anno scorso aveva questa porzione del sottotelaio con più con più passaggio quindi con più trasparenza tra virgolette e probabilmente avendo introdotto per primo questa questa scelta per primi questa scelta io ritengo che abbiano spinto ulteriormente in questa direzione per incanalare ancora più flusso in questa zona e poterlo gestire sui fianchi del marciapiede poi l'alimentazione nella parte posteriore diciamo all'interno delle ruote posteriori perché cioè questa vista laterale ci fa capire fondamentalmente che quel vassoio che prima l'anno scorso la vettura dell'anno scorso era colpito più o meno quasi a livello della linea bianca della e di oracle no diciamo è stato portato tutto in alto quindi è stata eliminata tutta quella zona lì per avere nella vista laterale l'ingresso delle bocche veramente minuscolo insomma veramente minimale e questo ha fatto sì che il fianco del telaio diventa cioè praticamente il side pod non c'è se vogliamo è una piccola porzione completamente sollevata dal fondo e quello che noi stiamo vedendo è una sorta di fianco del telaio completamente libero no verso la parte posteriore certo a questo punto però ci rimane da commentare anche chiedo a salvo di girare l'immagine su quello che la stampa italiana ha nominato i bazooka perché anche quelli sono sede in qualche modo di una certa volontà di incanalare i flussi in un certo modo e ti chiederei di commentare cosa ne pensi vediamo un attimo la foto allora se il volume di queste di queste superfici aggiunte nella parte posteriore quindi come conformazione è importante in effetti in questo gioco di fare una maggiore specializzazione delle prese d'aria per andare alimentare la fluidodinamica interna e alimentare in modo opportuno con le opportune portate tutti gli scambiatori no che ci sono all'interno della vettura ci fa notare che in effetti una pre una porzione che è proprio sopra il fia il cockpit ring quindi il poggiatesta del pilota sulla destra e lo vediamo proprio appunto tra il fianco del 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 poggiatesta e la parte inferiore dell'alo quella è una zona che è una zona di coefficienti di pressione tendenti a 1 quindi non dico dire stagno ma quasi quindi aprire una porto un'apertura in quella zona costa dal punto di vista di drag poco perché si va a catturare un flusso che normalmente su quella superficie andrebbe praticamente ad arrestarsi o a ridurre di molto la propria velocità e abbiamo visto in altre immagini che questa presa da alimentare un piccolo scambiatore di calore e viene estratta con una serie di griglie che sono tra la parte superiore della pancia e la parte concava del bazooka appena dietro diciamo che questa soluzione è una è una estremizzazione di quello che abbiamo visto su mercedes l'anno scorso perché mercedes ha dato una forma a questo e qui si sono spinti oltre purtroppo io ho cercato diciamo su rete ma non ho trovato nessuna immagine veramente come dire colta nel momento giusto no come si dice per farci capire nella parte posteriore di quel di sfogo di questi bazooka che cosa c'è oltre a quello che vediamo nella parte anteriore questo speriamo di capirlo in corrispondenza in occasione della prima gara quando magari le vetture schierate in griglia ci possono far vedere qualche cosa in più insomma ecco vedete che ci sono quelle quelle quattro griglie quelle aperture queste sfogano il flusso in questo piccolo scambiatore che c'è che alimentato dalle prese che dicevamo tra sotto l'alo e il fianco del poggia testa pilota però tutto questo volume sembrerebbe come dire confinare il flusso che va ai fianchi della scocca tenendo tenerlo più largo in modo tale da poter estrarre flusso dalla parte superiore sinceramente non mi è molto chiaro allora la forma in senso nella vista laterale la forma discendente a una logica estremamente chiara e si sposa molto bene con quello che è il fianco della vettura in generale però perché abbiano voluto come dire eccedere in senso verticale con questa raggiatura molto ampia quindi queste sezioni pseudo circolare diciamo per molta parte della lunghezza mi sembra molto per per fare semplicemente una suddivisione dei flussi tra la parte superiore e la parte di fianco della scocca e troppo pronunciato per essere solo questo quindi può darsi che con qualche altra immagine di dettaglio potremmo capire qualcosa in più ecco sulla fluidodinamica interna però vorrei dire allora è chiaro che questo è un lavoro impressionante perché voglio dire andare a rendere più specifici specifici gli scambiatori quindi distribuirli in zone differenti della pancia nella parte anteriore della vettura comporta comunque sulla carta probabilmente qualche piccola penalizzazione in peso perché c'è da considerare un pipe c'è da considerare che ogni scambiatore comunque sia una matrice ma anche delle testate no e quindi voglio dire il rapporto tra i volumi matrice testata non è perfettamente proporzionale per cui quando tu vai avere più elementi più ridotti questo ti penalizza un po evidentemente hanno fatto questo lavoro nello scopo di estremizzare di più quello che è per me l'imbocco del dell'ingresso turner radiatori io non credo che ci siano altri motivi perché è un lavoro di packaging veramente complesso in una parte interna della vettura che zeppa di componenti non ci sono millimetri diciamo regalati per nessuno e poi appunto questa probabile piccola penalizzazione in peso che cosa ti potrebbe dare diciamo complessivo sia una una migliore ridistribuzione delle masse in una posizione più bari centrale anche se appunto quello scambiatore di cui parlavamo prima è una quota verticale comunque non piccole quindi nell'ottica dell'altezza del baricentro complessivo non è sicuramente un plus quindi io credo che tutto questo ruoti attorno al concetto che è stato quello di ridurre al minimo possibile la sezione frontale l'area della sezione frontale di imbocco del turner radiatori allora partiamo con altri argomenti in attesa di quello che probabilmente è la cosa che più interessa i nostri ascoltatori ma ti volevo chiedere un parere prima un parere molto breve ma comunque informato su quello che abbiamo visto a tema di mclaren e aston martin secondo me questa è la mia personale idea quindi non la verità ma la mia personale idea molto molto male rispetto alle loro aspettative non in senso assoluto ovviamente ma rispetto alle loro aspettative per quello che riguarda aston abbiamo visto un alonso un poco insoddisfatto e sappiamo tutti cosa significa avere alonso insoddisfatto o comunque non completamente soddisfatto e per quello che riguarda mclaren un'intervista di dell'ingegner stella che effettivamente ammette che pur non non alzano bandiera bianca ovviamente ma ammette che durante l'inverno sembra che i suoi avversari abbiano fatto qualcosina di più quindi sono forse un po' più indietro di quello che si aspettavano cosa ne pensi velocissimamente di queste due scuderie no concordo con te io ritengo che quello che si è visto finora nei test ovviamente con con tutte come dire le considerazioni di prudenza che si possono fare in questi casi però si ritengo che il loro step evolutivo sicuramente c'è stato ma sono non si aspettavano forse da parte di mercedes red bull e anche di ferrari uno step più grande di quello che forse speravano e non credo che si siano coperti e vedendo vedendo le vetture diciamo sì ci sono degli elementi molto nuovi se vogliamo bello sviluppo su tutte e due le vetture in tutte le aree però a quello che abbiamo visto finora direi che non mi aspetto che possono essere un outsider o una sorpresa importante nelle prima nella prima parte di stagione ne parleremo anche verso la fine per un'altra cosa che vorrò chiederti ma sono assolutamente d'accordo con questa interpretazione per l'altro parlando di mclaren per un secondo il terzo giorno mclaren era in pista con piastri per un long run e abbiamo visto la monoposto di walking un pochino in difficoltà verso la vettura che sopraggiungeva la vettura che sopraggiungeva era quella di charles leclerc e vediamo infatti i ferrari perché la mia impressione parlando sempre introducendo il discorso di una impressione assolutamente personale derivante dalla visione dei test e dalla ricerca per le notizie è che ci sia forse un po troppo entusiasmo attorno a ferrari e mi spiego meglio questa affermazione l'ultimo pomeriggio di leclerc a mio giudizio è stato un po preoccupante più che altro si sono visti si è visto un grosso miglioramento della vettura rispetto all'anno scorso ma continuiamo a vedere questi cali di prestazioni improvvisi soprattutto a un certo numero di giri poniamo dopo il decimo dundicesimo giro di uno stint si vede un calo netto di pressione che non viene recuperato questo se si mette a confronto il comportamento di della vettura con quello ad esempio di red bull destra una certa preoccupazione ma questa è soltanto una mia idea e venendo a ferrari appunto volevo chiederti come hai visto tu i test di ferrari cosa ne pensi soprattutto diciamo confrontiamola con mercedes prima di di andare a fondo su altri argomenti io credo che quello che si è visto sino sino ad ora ci può sicuramente portare a dire che questo primo contatto con la pista è di sicuro molto molto meglio di quello che era accaduto a pari periodo lo scorso assolutamente se dubbio decisamente poi dal punto di vista di dove si colloca la performance di ferrari rispetto a red bull rispetto a mercedes è un po difficile da stabilire in particolare io penso per quello che abbiamo visto che red bull è ancora molto molto forte sinceramente pensavo e speravo anche per un certo per una questione proprio di apertura no del del campionato quindi di un partire con un campionato più serrato più combattuto speravo in un red bull un attimino meno in sicurezza in questi test perché fondamentalmente abbiamo visto due tipi di lavoro completamente diversi tra best appen e perez quindi il fatto che i tempi di perez diciamo siano stati molto diversi no da quello che ci ha fatto dire best appen potrebbe anche derivare dal fatto che il tipo di specifico di lavoro di programma che hanno portato avanti due era differente però nonostante tutto io credo che appunto tra i valori che abbiamo visto nei test sicuramente red bull la collocherei al primo posto e penso che ferrari abbia ancora un gap e delle due squadre tra ferrari e mercedes penso che fosse di mercedes non abbiamo ancora visto tutto e quindi immagino che queste due vetture siano vicine tra loro come performance però ormai effettivamente mancano pochi giorni quindi come dire sarà quasi più comodo e più facile vedere cosa accadrà nelle libere uno no cioè inizieremo assoluto andare nel vivo ti chiederò comunque di esporti dopo per un gioco che stiamo cercando di introdurre anche con i nostri ascoltatori ma c'è ancora tempo di ferrari effettivamente sappiamo più o meno tutto nel senso è già stato commentato praticamente tutto quello che era visibile diciamo di prima di primo acchito dopo la presentazione abbiamo visto e durante questi test soltanto un'immagine un attimo più definita di quello che è la parte del diffusore se per caso vuoi commentare qualcosa rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso c'è anche una notizia che però non è ancora confermata sul fatto che ferrari abbia modificato o sostituito il tale diffusore alla fine del secondo giorno non abbiamo però la conferma e foto di questa sostituzione cosa ne pensi guardando queste immagini? Sicuramente è evoluto in generale il concetto del diffusore per quello che si può vedere in queste immagini sicuramente ha avuto un'evoluzione sia per quello che riguarda la parte di flusso che va con tutto quello che va a gestire il flusso molto vicino alle pareti verticali e quello che va a interagire con i big wing poi sì qualcuno ha detto che alla fine del secondo giorno si è visto da un'immagine una conformazione diversa che farebbe pensare un altro diffusore vabbè francamente non ci troverai niente di male nel senso che potrebbe rientrare ovviamente no di avere due specifiche e appunto provarle però anche qui secondo me diciamo quello che abbiamo visto in questi giorni sono realmente le parti che sono sulla vettura e che troveremo a fine di questa settimana nella gara a meno di qualche piccola appendice o qualche piccolo elemento di micro aerodinamica che può essere prodotto effettivo, può essere montato all'ultimo perché così non è così dominante tenete presente che alla fine lo scopo principale dei test al di là del prendere contatto per i piloti con le vetture e capire appunto come è il comportamento dal punto di vista del team progettuale è fondamentale per capire quello che sono le prime rispondenze rispetto ai valori attesi quindi l'equilibrio dinamico della vettura in generale, il balance aerodinamico come la vettura risponde a delle variazioni, a delle differenti setting di altezza anteriore e posteriore quindi questi sono tutti i test che le squadre hanno fatto e servono per andare a vedere appunto quello che la pista dà, sperabilmente conferma rispetto ai punti di mappa aero che sono un po' i capisaldi sui quali poi non dimentichiamolo vengono sviluppate le altre superfici, le altre parti della vettura quindi è chiaro che deve avere una buona rispondenza altrimenti non sapresti se deliberare alcune linee di sviluppo rispetto ad altre chiaro, andiamo avanti con una domanda tecnica che vorrei farti soprattutto tenendo conto della tua esperienza in pista è una curiosità che a questo punto dovremmo cercare di dirimere anche per dare un'immagine e cercare di far capire a cosa servono i test la domanda è come si affrontano i test in pista normalmente e hai una possibile schedula per quello che è il lavoro normale di una squadra intendo dire ad esempio la prima cosa da fare è sempre quella di verificare la mappa aero come dici tu quindi alla ricerca di una corrispondenza dai dati che si ricavano dal CFD dal simulatore successivamente è mandatorio quasi sempre procedere con il long run piuttosto che altro c'è qualcosa che tu dici assolutamente irrinunciabile che dovrebbe mancare negli step diciamo di avvicinamento ai test da parte delle squadre? Beh diciamo che ogni team sicuramente ha il proprio piano di lavoro che deriva un po' dal proprio approccio non c'è un modo unico per poter raccogliere dei dati cioè il gioco è quello di essere in grado di raccogliere le massime informazioni possibili e tenuto conto del fatto che il tempo a disposizione è molto molto poco quello che normalmente viene fatto in parallelo al discorso equilibrio dinamico della vettura balance della vettura, comportamento aero non dimentichiamo che c'è anche tutto l'aspetto operativo quindi temperature operative quindi il fatto che la vettura lavori con delle temperature di esercizio corrette ci sono prima dei giri di installazione nei quali si verificano tutti questi aspetti più di monitoring della vettura e poi subito dopo si passa a quello che è il comportamento della vettura in pista e lo sviluppo viene fatto sia da un punto di vista aerodinamico quindi è chiaro che uno si presenta con un setting che è quello che ha ottimizzato a livello calcolo e a livello simulazione per quella pista e da lì incomincia a provare a vedere delle determinate variazioni preassegnate e quindi alcune coppie di valori altezza anteriore, altezza posteriore setting dell'ala anteriore e posteriore per poter andare ad incrociare quello che sono i carichi aero che vengono misurati sui puntoni della sospensione quindi fare subito un primo check per vedere se il carico globale totale ci si ritrova con quello che è calcolato FD misurato in galleria e atteso per quello che è il setting della vettura che sta girando più si fa uno sviluppo anche dal punto di vista meccanico quindi ad esempio rigidezze verticali, rigidezze di rollio si spazzolano un pochettino alcuni livelli per andare a vedere quello che è il comportamento della vettura poi è chiaro che i lavori devono essere specifici perché un conto è vedere quello che è la progressione e la costanza della performance della vettura in una sequenza di giri, quindi nei long run e un conto è quello di vedere per esempio quanto la vettura è in grado di andare a target con i pneumatici dopo un giro secco cioè preparando il giro secco per vedere quello che è un po' la performance tipo qualifica della vettura non ci sono fondamentalmente ognuno ha un po' il suo piano il piano è pesantemente condizionato dagli imprevisti che ci sono, abbiamo visto ci sono stati per tutti chi più chi meno però fondamentalmente hai una scaletta che ti porta a spazzolare in rassegna queste cose e poi cerchi di seguirla il più possibile fatto salvo che poi causa imprevisti ti trovi magari a dover saltare qualche cosa o rimodulare la sequenza di questo tipo di attività in pista in funzione di quello che poi sono determinate esigenze ad esempio fare un long run con una temperatura della pista non troppo interessante non ha molto senso quindi se hai avuto un problema nella mattina che ti porta via, diciamo, tempo di pista per fare riparazioni o sostituzioni di componenti è chiaro che vai a riscalettare alcune attività per far sì che cadano in una situazione più interessante insomma più consona con quello che sono le condizioni di temperatura ambiente, temperatura asfalto certo, ma quindi a conti fatti giusto per chiarire il discorso a conti fatti ad oggi i team hanno tutti chiaro il quadro delle correlazioni con la Galleria del Vente con il CFD, secondo te? rispetto a quello che è il loro singolo performance è il loro singolo progetto sì, anche se penso che la durata veramente minima dei test è stata tale da non consentire ovviamente una mappatura così densa della mappa aero della vettura però sicuramente i capisaldi e quindi quello che è il carico globale l'efficienza della vettura il balance anteriore e posteriore al variare delle grandezze fondamentali quindi solo all'anteriore e posteriore le altezze, questo sì questo sì anche perché è un po' il punto di partenza se ti trovi con la vettura a ruota in terra ad avere un deficit di carico un problema di balance che magari ti costringe a lavorare più solo all'anteriore più di quanto pensavi è chiaro che questi sono parametri che vuoi vedere subito perché ti condizionano anche il proseguire dei test certo grazie mille Riccardo anche per questo adesso ti invito un attimo al Balsport per inchiusura di trasmissione perché in questi ultimi giorni ho cercato di coinvolgere anche i nostri ascoltatori in quello che è un gioco non è nient'altro che un gioco sulle nostre opinioni singole in merito alla stagione che sta per iniziare abbiamo visto i test ovviamente ognuno si è fatto la sua propria opinione su questi test chi più informato dei altri ma a questo punto diciamo giochiamo e vediamo cosa succede questo è il mio invito un po' a tutti voi io ho già fatto sapere quelle che sono le mie previsioni per quest'anno quantomeno mettendo in fila le scuderie per livello di prestazioni tu hai già iniziato hai già detto Red Bull ovviamente ti chiedo adesso di scegliere velocissimamente fra Mercedes e Ferrari magari quella che anche soltanto di un decimo un centesimo secondo te è messa meglio e magari stiliamo il resto della classifica prima di chiudere questa trasmissione dopo a seguire Red Bull che appunto purtroppo mi pare che siamo tutti concordi nel dire che è ancora uno step io mi immagino per questa prima gara o forse anche per le prime due o tre gare probabilmente una Ferrari un po' più forte in qualifica di Mercedes e una Mercedes più forte in gara di Ferrari questo è quello che io penso nelle prime due o tre gare a seguire direi che potremmo avere McLaren probabilmente probabilmente Aston Martin magari con qualche sorpresa ho visto delle cose molto interessanti su Racing Bull quindi chi lo sa magari avremo una sorpresa interessante e positiva ovviamente a pochi interessa quello che è il midfield e il pacchetto il midfield anche perché meno male sono abbastanza tutti raccolti ti chiedo però una considerazione di cui stanno parlando in molto in pochi c'è questo disastro al pin da commentare a quanto pare alcuni analisti si sono spinti nel giudicarla la peggiore macchina dell'otto e ricordiamo nel lotto c'è anche la AS non lo so il risultato dei test è stato molto magro per loro indubbiamente guardando i tempi non soltanto il tempo nell'ottica del confronto con gli altri ma anche un pochettino quello che è stata la difficoltà nell'arco delle giornate di arrivare ad avere una certa costanza non lo so non riesco a capire non so sicuramente loro sanno in queste situazioni è chiaro che il team sa se quello che ha visto è lontano dal valore atteso perché sono subentrate delle cose che adesso bisogna ovviamente capire e gestire oppure se in qualche modo e questo sarebbe il caso peggiore il più disarmante quello che hanno visto in pista non è molto difforme da quello che si aspettavano allora è chiaro che se così fosse la cosa sarebbe molto pesante perché vuol dire che tutti gli altri hanno fatto un passo in avanti con una falcata diciamo più lunga più estesa di loro e quindi quando ti trovi così diventa veramente una doccia fredda molto più lunga speriamo che non sia questo il caso perché comunque diciamo la vettura c'è stata un'evoluzione sulla vettura quindi non lo so vediamo vediamo questa prima gara diciamo che questa prima gara ci darà già comunque tra le libere le qualifiche e lo svilupparsi della gara affidabilità a parte già una prima come dire una prima verifica dei valori in campo perché comunque i test sono stati molto brevi ha ragione Alonso quando dice questo è un discorso vecchio però ha ragione quando dice che alla fine è l'unico sport nel quale non ci si allena e non è solo una questione del pilota che è l'atleta ma ci sono centinaia di persone per non dire alcuni diversi centinaia di persone che sono lì a valutare ciascuno diciamo la propria area di competenza sulla vettura e come dicevamo prima sì esci da questi test con un'idea di correlazione con un'idea di quello che hai visto ma sicuramente è veramente poco il tempo perché questo non si può negare cioè questi giorni di test sono nulla per preparare una stagione insomma con una vettura buona certo fra l'altro beh hai nominato la persona giusta perché speriamo tutti noi che il destino di Alpine non sia quello che si è visto dai test anche perché comunque si tratta di un costruttore ufficiale ovviamente stiamo parlando di Renault rispetto alle altre scuderie quindi sarebbe importante per la Formula 1 averlo competitivo va detto che la persona che hai nominato sicuramente starà ridendo sotto i baffi perché da Alpine proviene e ha lasciato il buon Ocon impantanato in quella situazione la seconda persona che penso riderà è un ragazzo che guida una McLaren che da un anno circa da nove da otto mesi circa non sente più nessun giornalista dire che ha fatto un errore a lasciare quella scuderia in maniera un po' roccambolesca a metà del 2022 va bene siamo in chiusura ovviamente io come al solito vi ricordo la campanella quindi iscrivervi al canale per essere sempre informati sulle nostre iniziative siamo presenti in praticamente tutti i social una bella spolliciata per farci sapere se questo video vi è piaciuto i commenti come sempre domando anche qui a voi la vostra interpretazione sui test e quello che vi aspettate da questa stagione probabilmente cercheremo di fare una puntata un po' speciale dove commenteremo o quantomeno leggeremo le vostre idee io non faccio altro che salutare Riccardo grazie mille ancora anche per la lezione di stasera grazie Riccardo grazie a te Michele grazie a tutti e saluto tutti ovviamente vi ricordo come sempre che se non ci seguirete probabilmente diventerete anche voi gli ingegneri aerospaziali più famosi e competenti al mondo ma vi toccherà tutti i giorni sdaiarli per un'ora sotto la macchina alla ricerca di qualche guasto ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti